guardate ragazzi già c'è i seggi della cucina fischi magari oggi viene a menzionno chissà vi rida ogni sinua la mattina eri si può venire a sto orario? un'idea in nisi stamattina prima di venire da fare cosa hai fatto stamattina? alle 4 e mezza sono andata a fare un ufficio che non si dice il nome no e qua c'è a mezzo poi c'è l'ufficio ma scusa tu ti sei fatta solo l'ufficio o hai fatto qualcos'altro? no poi mi sono messa a cazzeggiare fino a quando venivate poi mi ha firmato una signora per le polizie ma quindi tu vuoi essere pagata da quando hai iniziato a cazzeggiare? c'è il tombale no dalle 10 a me vuoi essere pagata da quando cominciavo a furiare i pinnacci per ritattare io c'è il parrano a Mary ora ora ma a sette il parrano è ingazzato a tra poco Mary che c'è a dire vabbè a tra poco a tra poco Mary mi posso scaldare a tra poco